Martellago, a causa di lavori alla rete idrica, dalle 13.30 alle 18.30 di lunedì prossimo saranno possibili interruzioni o riduzioni dell'erogazione di acqua potabile a Maerne, nelle vie Olmo, Stazione e Piazza 4 Novembre, comprese tutte le laterali. Veritas raccomanda di non lasciare i rubinetti aperti durante il periodo indicato. Veritas ha anche informato che martedì, a causa di un'assemblea del personale, non sarà effettuata la raccolta differenziata di vetro, plastica e lattine a Venezia, Murano e Burano, invitando a limitare per quanto possibile in queste località il conferimento dei rifiuti nel giorno dell'assemblea.